Il percorso della pace e della democrazia dunque è chiaro. Esso parte dalla liberazione come impegno di vita per realizzare una libertà responsabile. Non c'è libertà senza liberazione, ma quest'ultima rischia di restare incompiuta se si dimentica la storia e se i suoi frutti non continuano ad essere cercati nella vita di tutti i giorni. Una libertà a servizio del bene comune e della pace. Monsignor De Vasini nel celebrare nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiaveri la messa in suffragio di tutti i caduti per la lotta di liberazione della dittatura nazifascista ha invitato a guardare al sacrificio di tutti coloro che hanno perso la propria vita per garantire un futuro di libertà alle generazioni future e a non dimenticare la storia che ha portato il 25 aprile di 79 anni fa. Una libertà senza liberazione diventa libertarismo, dispotismo, dittatura. Non c'è più spazio per la democrazia né tantomeno per la pace. La parola di Dio ci aiuta ad intendere la liberazione come cammino quotidiano verso la libertà. La libertà è vocazione originaria di ogni essere umano, ha proseguito il Vescovo di Chiaveri. Ogni uomo e ogni donna sono chiamati ad essere liberi, come ribadisce San Paolo nella Lettera ai Galati. Cristo ci ha liberati dal virus del nostro egoismo, che Paolo chiama schiavitù della carne e che noi traduciamo come istinto di potenza, di dominio. Senza l'evento Cristo è difficile immaginare il respiro di una pienezza di libertà. La libertà assume anche una dimensione antropologica. È un cammino nella vita quotidiana per non cadere vittima delle diverse schiavitù e dittature che minacciano la vita propria e quella degli altri. Prima fra tutte quella dell'io, dell'egoismo individuale e sociale. Occorre uscire dal proprio piccolo orizzonte per guardare ai bisogni dell'altro, all'incontro e alla relazione. Cristo è venuto non per essere servito ma per servire, ha ricordato il Vescovo. Da qui l'esempio da dare alle nuove generazioni. Istituzioni civili e religiose, scuola e famiglia, sono chiamate ad educare alla legalità, al rispetto delle regole, ad una socializzazione accogliente e solidale, ad una cittadinanza attiva.